Ciao bambini, ecco a voi il prossimo gioco che si chiama Dadi e Somme. In questo gioco bisogna essere due giocatori e avere a disposizione questo materiale. Un dado, una sveglia, un orologio per segnare il tempo, per stabilire il tempo, due pedine se non avete di questo tipo, due tappe di sughero, poi 12 segnapunti, io li ho fatti con la carta, 12 rossi e 12 verdi. Devono essere 12 per ogni giocatore, importanti che siano però diversi tra di loro. Mettiamo le pedine sulla partenza, sul via. La mia è la pedina rossa. Lancio il dado, 4. Mi muovo di 4 caselle, 1, 2, 3, 4. Provo a risolvere mentalmente questa dizione. Allora, 10 più 10 quanto fa? 20. Ora vado a mettere il segnapunto sopra il numero 20. E continuo ancora io perché ho fatto giusto. Lancio il dado. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Provo a risolvere mentalmente questa dizione. 10 più 1. Attenti. Faccio finta di sbagliare. 10 più 1 fa 7. Ah, ho sbagliato. Allora cosa si fa? Passo il turno alla mamma. Inizia a giocare la mamma. Chi vince tra i due giocatori? Vincerà chi riesce a posizionare, a mettere qui, più segnapunti nel tempo stabilito. Noi avevamo stabilito un tempo di 5 minuti. Chi riesce a posizionare più segnapunti in questo tempo vince. Ciao, divertitevi tanto e se volete inventate anche altre regole. Anche! Grazie.